E' successo semplicemente perché il destino mi aveva fatto incontrare un uomo straordinario. L'ho amato appassionatamente. L'ho lasciato dopo dubbi e lacerazioni, perché ero convinta che tu, nonostante tutto, fossi l'uomo della mia vita. Penelope. Ho fatto i miei figli con una puttana. The Ultimate Recipe for Love Vanilla and Chocolate, Friday, May 22nd at 9pm on Euro Channel.